Pratola Peligna mostra sempre di più di essere un punto importante per la cultura del territorio. Pratola a teatro è il titolo di una nuova stagione teatrale per la precisione la decima, non ben dubbio che il teatro è componente fondamentale della cultura. Questa mattina al teatro comunale si è tenuta una conferenza stampa di presentazione della decima stagione teatrale a cura del Thorian Teatro Stabile d'Innovazione. Presente il sindaco di Pratola Antonio De Crescentis, l'assessore alla cultura Massimo Antonucci, i direttori del Florian Giulia Basel e Massimo Bellaccio, il responsabile del teatro ragazzi del Florian Mario Fragassi, rappresentanti di alcune associazioni che si interessano di teatro. Il programma pare quant'altri mai ricco di eventi di livello, come ci precisa la direttrice del Florian Giulia Basel. Dunque innanzitutto cominceremo domenica prossima con un appuntamento straordinario, sarà qui con noi un attore del calibro di Giuseppe Pambieri che tutti conosciamo, che tutti ricordiamo sia per le sue interpretazioni teatrali straordinarie ed anche per una notorietà televisiva che dai tempi delle sorelle Materassi fino a Incantesimo e tanti altri celeggiati, insomma l'hanno portato nelle case di tutti e l'hanno fatto molto amare. E presenterà un lavoro su Giacomo Leopardi, altro autore grandissimo, che poi proprio in questo periodo è tornato di grande attualità grazie anche al film che sta girando nelle sale, il film di Martone. Un cast notevole di attori si atterreranno sul palcoscenico del Teatro Comunale di Pratola, artisti di grande notorietà come Giuseppe Pambieri che aprirà la stagione domenica 16 novembre con il lavoro teatrale L'Infinito Giacomo, vizi e virtù di Giacomo Leopardi. La drammaturgia e regia di Giuseppe Argirò reciteranno in questo frattempo anche due attrici di origine pratolana. Sì, è un bellissimo teatro, veramente un gioiello che spicca in Abruzzo e non solo. Sì, cominciamo con un grande attore come Giuseppe Pambieri, che tutti conosciamo e tutti amiamo. Poi abbiamo altri attori di valore e di interesse, per esempio Serena Di Gregorio, una giovane attrice di Pescara che è arrivata finalista al premio Scenario lo scorso anno, si è fatta molto apprezzare, molto brava, presenterà un suo testo, un suo spettacolo 5 agosto. Poi abbiamo una giovane attrice di Prato La Pelligna, brava e emergente come Valentina D'Andrea. E poi abbiamo la nostra attrice di punta del Florian, Flavia Valoppi, che presenterà Dora Linda alla Musa Ovina, una nuova produzione del Florian. E poi altri attori di valore come Maurizio Stammati, come Alessio Tessitore, Umberto Marchesani. Insomma, tanti tanti attori, giovani, meno giovani, ma comunque sicuramente comporremmo un bel cast per questa stagione, che voglio ricordare è la decima stagione che il Florian organizza qui a Prato La Pelligna con l'amministrazione comunale. Quindi anche questo è un traguardo direi veramente di rilievo. Varsi qui a teatro per l'ennesima volta, dopo dieci anni, a presentare una stagione teatrale è un evento eccezionale, ha una valenza del tutto particolare, perché significa che noi crediamo in questo progetto, in questo percorso teatrale che vede il teatro al centro della vita culturale di Pratola. Non solo come espressione attraverso le rappresentazioni teatrali, ma anche attraverso tutta l'attività che c'è attorno. Sottolineare.